Quando ho sentito che la scuola dove è stato girato High School Musical non ha mai messo in scena la versione teatrale del musical, sono rimasta scioccata come attrice e coinvolta come millennial. Millennial. Domani inizieranno le audizioni. Ho visto il primo film a 37 volte, 1 ai 15 minuti iniziali dei sequel. È impensabile, sarebbe straordinario se affidassero a me la parte di Gabriella. So che non siamo più una coppia, prenderci una pausa è stata una mia idea. Io non volevo fare una pausa. È incredibile, sta con me Jake Aswell. Questo è un incubo. È arrivato il gran momento. Io voglio fare l'audizione per Gabriella. Ryan, vero? Credo che lui preferisca Sharpay. È una scelta originale. Mi dispiace di non avere concorrenza. Deve vedermi sotto un'altra luce. Domani mi presenterò all'audizione e niente, riuscirà a fermarmi. L'elenco del cast è pronto. Abbiamo scelto Gabriella e Troy. Allacciate le cinture, grossa perturbazione in arrivo. Adesso sono fuori di me dalla gioia. No, 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 no. Stay to the stuff you know. Stay to the stuff you know. Perché sei venuto qui? Se ci tenessi davvero a me, Ricky, lasceresti il ruolo a chi lo vuole veramente. No, 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 no. Siete entrati qui come degli estranei. Stay to the stuff you know. Ma dopo oggi sarete una famiglia. Io credo in noi. Scusa, ma non dovresti essere da un'altra parte? Broadway. B Scusa, ma non dovresti essere da un'altra parte? Uno scuola a chiò esta? Poi